Scuola e sport all'Alberti si può fare. Parte a Bornio il progetto di istruzione superiore calibrata su misura per gli impegni degli studenti atleti inseriti in squadre nazionali, già 50 quelli che attualmente frequentano l'istituto. Per loro, a prescindere dall'indirizzo di studio prescelto fra gli otto proposti, liceale, tecnico, economico, professionale e alberghiero, dal 1 settembre al 30 giugno ci sarà dal prossimo anno la possibilità di conciliare in maniera flessibile con supporto e recuperi adeguati lo studio e gli impegni sportivi. Dopo il via libera del ministero, il sostegno della regione, l'indispensabile accordo con la provincia, parte così in Altavalle un'esperienza unica a livello nazionale, alla quale plaudono il comune, i locali ciclabe e un campione come Pietro Vitalini. Un progetto del genere non poteva che nascere qua, in questa provincia, in questa terra dove ci sono atleti importanti e dove c'è questa esigenza di poter permettere agli atleti di avere giustamente la giusta istruzione e questo diventa poi un progetto pilota a livello nazionale in una terra come la nostra che si deve far conoscere anche e soprattutto in vista delle Olimpiadi del 2026. Il punto finale di uno sforzo che è durato negli anni dopo la conclusione dell'esperienza dello ski college nei primi anni 2000, questo è chiaramente un progetto che alla luce di quell'esperienza diventa ovviamente più completo. La scuola si organizza per dare il supporto didattico ai ragazzi compatibile e conciliabile con quelli che saranno i loro impegni sportivi. Certamente perché gli studenti atleti ovviamente hanno degli impegni agonistici piuttosto serrati, di conseguenza la scuola mette a disposizione dei docenti in orario extrascolastico per poter supportare alle assenze che gli studenti devono fare a seguito degli impegni che loro hanno. Grazie all'accordo col PFP Valtellina gli studenti atleti dell'Alberti potranno essere ospitati al Vallessana di Sondalo, alcuni già lo sono. Quello che possiamo offrire noi in questa collaborazione convinta sono i posti letto ma non solo i posti letto, noi abbiamo già degli assistenti, una cucina e quindi del personale in grado di accogliere al meglio e accudire fra virgolette questi studenti perché sono gran parte minorenni. È doppiamente interessante l'accogliere e ospitare questi tipi di studenti perché sono un esempio veramente positivo di dedizione alla scuola e allo sport e quindi a pensare positivamente rispetto a magari qualche studente che ha meno voglia e a meno voglia impegnarsi in tutti i campi.